La parola di cui tratterò oggi è la parola terra. E allora inizierei con un'immagine che è nota, credo, a tutti noi. Un'immagine che molti di noi hanno oggi sul telefonino, come sfondo per il computer. È l'immagine del nostro pianeta presa dallo spazio, l'intero nostro pianeta. Ma questa immagine che ora è diventata molto nota e che addirittura direi, potremmo definire, iconica, è un'immagine recente. La prima immagine del nostro pianeta in una foto a colori dall'esterno risale esattamente a 50 anni fa, al 24 dicembre del 1968, quando durante una missione Apollo, la missione precedente a quella che poi avrebbe portato l'uomo sulla Luna, venne scattata questa immagine. Una di queste serie di immagini è una immagine famosissima, è chiamata Earthrise, l'alba della Terra, ed è diventata, anzi credo che sia, l'immagine più riprodotta, la foto più riprodotta finora nella storia. Che cosa mostra questa immagine? Mostra il nostro pianeta per la prima volta visto dal di fuori. E com'è fatto questo pianeta? È colorato. Questa è una cosa che finora ha soltanto il pianeta Terra. Il pianeta Terra è contraddistinto perlomeno da questi tre grandi colori che sono il blu, il bianco e il verde. Il blu dell'acqua, il bianco delle nuvole, il verde della vegetazione. Noi non abbiamo ancora trovato nessun altro corpo nell'universo che abbia questa firma, qualcosa di simile alla firma dei colori della Terra. Da che cosa dipendono questi colori? Beh, lo abbiamo detto, il blu dipende dall'acqua, il bianco dipende dalle nuvole, il verde dipende dalla vegetazione. Ma quello che è fondamentale comprendere è che in tutti e tre questi colori a loro volta dipendono da un'unica cosa, che sono le piante. Senza le piante non ci sarebbe l'acqua, non ci sarebbero le nuvole, non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe nulla. Perché non ci sarebbe niente? E perché la vita su questo pianeta è essenzialmente legata al fatto che esistono le piante? Beh, proviamo a immaginare che cosa accadrebbe se di colpo le piante dovessero scomparire. Innanzitutto, chiaramente scomparirebbero di seguito istantaneamente tutti gli animali, perché gli animali dipendono dalle piante, sia per quanto riguarda la catena alimentare, tutto quello che noi mangiamo, noi e tutti gli altri animali dipende e si origina dalle piante, sia per quanto riguarda ciò che noi respiriamo. L'ossigeno che noi respiriamo dipende dalle piante, dipende dai vegetali in senso lato. Ora, quindi, se scomparissero le piante scomparirebbe l'intera vita animale, ma non è finita qui. Se scomparissero le piante, l'anidride carbonica, se tutte le piante dovessero morire domani, l'anidride carbonica che queste hanno fissato in centinaia di milioni di anni sarebbe rilasciata nell'atmosfera. E con quali conseguenze? Beh, le conseguenze del riscaldamento globale che stiamo vivendo sono dovute a un innalzamento di poche centinaia di parti per milione, per secolo. Anzi, direi, ogni due secoli. Rispetto al livello base dell'anidride carbonica, il riscaldamento globale degli ultimi 150 anni è legato a un aumento di qualche centinaia di parti per milione. Bene, se le piante morissero rilasciando nell'atmosfera tutta l'anidride carbonica che hanno fissato, questa aumenterebbe di centinaia di migliaia di volte. La temperatura del pianeta diventerebbe, conseguentemente, per effetto serra, incredibilmente più alta, tanto alta da portare l'acqua all'ebollizione e quindi rendere il pianeta completamente sterile. Senza le piante, in altre parole, il nostro pianeta sarebbe del tutto simile alle immagini che noi abbiamo di Marte, di Mercurio o di Venere. Un pianeta completamente privo di vita. Quindi, quando parliamo del nostro pianeta, e quando parliamo del nostro pianeta, cercando di comprendere come questo funzioni, ovviamente dal punto di vista della vita, che è la cosa di cui io vi parlerò stasera, non dal punto di vista geologico, il motore primo di tutto quello che appare ed esiste sul pianeta sono le piante. Cosa sappiamo noi di queste piante? Innanzitutto, cosa sappiamo e quale percezione abbiamo della loro importanza, non soltanto per la nostra vita, e di questo, diciamo, un po' abbiamo iniziato a parlare, ma la quantità, ad esempio. Noi guardiamo alla vita, guardiamo a questo pianeta come se fosse il pianeta degli uomini, il pianeta che è nelle nostre mani, noi siamo i padroni di questo pianeta, tutto ciò che si assomiglia a ciò che noi siamo è bene, tutto ciò che si allontana da tutto ciò che noi siamo è qualcosa che è messo lì soltanto perché noi lo utilizziamo. Bene, ora affronteremo questi argomenti, ma innanzitutto cominciamo a vedere un po' qualche numero, numeri che sono normalmente sconosciuti alla maggior parte delle persone. Quante sono le piante? E soprattutto qual è il loro rapporto agli animali? Quanti sono il rapporto agli animali? Allora, se potessimo pesare tutti gli esseri viventi del pianeta, cioè se potessimo prendere tutti gli esseri viventi del pianeta e li potessimo mettere su una bilancia, ci accorgeremmo che gli uomini, insieme a tutti gli animali, quindi i mammiferi, i rettili, gli insetti, gli uccelli, i pesci, tutti quanti insieme ammontano allo 0,3% della vita. Cioè il peso di tutti gli animali insieme è esclusivamente lo 0,3% di tutto quello che è vivo. I funghi, giusto per capirci, sono quattro volte superiori come presenza agli animali, sono l'1,2%. Le piante sono l'85% della vita. Il resto, se volete sapere che cosa manca per arrivare a 100, sono i microrganismi. Ma quindi abbiamo, limitiamoci, diciamo, sarebbe interessante anche soltanto parlare dei funghi e del fatto che sono quattro volte superiori agli animali, ma parliamo dei gruppi, del principale, cioè del gruppo che rappresenta la vita del pianeta e degli animali. 85% contro 0,3%. È una quantità talmente enorme che ci si chiede e ci si è chiesto com'è possibile che noi uomini non ci accorgiamo, nessuno di noi, si accorge di questa incredibile disparità. Quanti di voi avrebbero mai detto che gli animali erano lo 0,3% della vita? Nessuno. E quanti di voi avrebbero detto che viviamo in un mondo che è composto quasi totalmente da piante? Come mai non le vediamo? È talmente forte questa cecità, così è stata definita, proprio cecità alle piante, plant blindness, che è stata studiata, perché non è normale che noi non ce ne accorgiamo. Non è normale che per noi una quantità talmente enorme di vita sia ignota. Ed è stato il motivo per cui noi non ce ne accorgiamo è stato studiato ed è stato identificato. È un vero e proprio malfunzionamento del nostro cervello. È una disfunzione cognitiva. Questo è il modo in cui è stata classificata questo fenomeno. Se io ora vi facessi vedere, è cosa che faccio vedere da anni a tutti i miei studenti in tutte le parti del mondo. Ed è un test che è stato ormai diciamo sottoposto a diversi milioni di persone. Se io vi facessi vedere cinque diapositive in sequenza che hanno tutte in comune il fatto di essere per il 99% e passa per 100% composte da piante. Quindi immaginatevi delle diapositive dove si vede un'enorme foresta, quindi soltanto piante, e poi in un angolo, da qualche parte, un animaletto. Quindi si vede una ranocchia, un'alce, in una diapositiva una ranocchia, in una diapositiva un'alce, in un'altra diapositiva una persona, in un'altra diapositiva un uccello. E si chiede che cosa vedete? La risposta classica del 96% delle persone è in sequenza una rana, un'alce, una persona è un uccello. Questa è una cosa talmente evidente, chiunque di voi può fare la prova, io la, nonostante insegni una materia che si chiama etologia vegetale e che quindi, anzi, sono orgogliosamente il detentore della prima cattedra al mondo di etologia vegetale e nonostante quindi i ragazzi che vengono a seguire le mie lezioni si aspettino che parliamo di piante, nonostante questo quando faccio vedere queste diapositive la risposta è sempre la stessa. Una rana, un'alce, una persona e un uccello. Alla fine si fa vedere normalmente una diapositiva dove ci sono soltanto piante e si chiede che cosa vedete ora e la risposta ve lo potete immaginare è ma professore qui non c'è nulla. Sempre la stessa cosa. Guardano a lungo poi dicono qui non c'è assolutamente niente. Questa quindi questa plant blindness è stata studiata e affligge a questo punto direi il 96% delle persone con una certa differenza fra uomini e donne. Le donne se non ricordo male si fermano intorno al 92-93% quindi c'è un 7% di donne che vedono le piante mentre la percentuale di uomini che vedono le piante è intorno al 2-3% e come mai abbiamo questo 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 problema beh è legato al nostro cervello ve lo dicevo prima ed è legato soprattutto a una caratteristica del nostro cervello noi siamo incredibilmente orgogliosi del nostro cervello ci torneremo a parlare di questo il nostro cervello è ciò che ci contraddistingue da tutti gli altri esseri viventi pensiamo che il nostro cervello addirittura i miei colleghi neurobiologi si sono lasciati andare a definizioni realmente iperboliche tipo il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo probabilmente l'avrete sentito dire che è una stupidaggine però insomma noi siamo incredibili è una stupidaggine nel senso che un apparato radicale di una quercia è tanto complesso quanto un cervello umano in termini di connessioni e di numero di apici radicali in funzione come se fossero a riguardo del numero in comparazione ecco non mi veniva la parola al numero di neuroni quindi è una stupidaggine il fatto che sia l'oggetto più complesso dell'universo è anche una stupidaggine che sia in grado di fare cose così fantascientifiche e fantasmagoriche come noi ci immaginiamo ad esempio ha una capacità di calcolo ridicola il nostro cervello ha una capacità di processare dati che è variabile in funzione delle persone dai 300 ai 1000 bit per secondo ora non so quanto ne sappiate di biqua di cosa sia un bit di informazione ma diciamo è niente assolutamente niente per capire una di quelle calcolatrici che regalano con i fustini di detersivo è in grado di processare un numero centinaia di migliaia di volte più alto di dati per secondo quindi il nostro cervello processa 300 bit per secondo a fronte di questo nel nostro cervello attraverso i nostri sensi e soprattutto attraverso la nostra vista entrano un numero di bit che è sproporzionato soltanto attraverso lasciamo prendere tutto il resto prendiamo soltanto la vista che è il più importante dei nostri sensi cioè quello che ci fornisce la maggior quantità di informazioni soltanto attraverso queste nel nostro cervello entra un miliardo e mezzo di bit per secondo se facciamo la somma di tutti gli altri sensi dovremmo essere intorno ai 5 miliardi di bit quindi abbiamo 5 miliardi di bit di informazione che entrano per secondo in una macchina che è in grado di processarne 300 che cosa succede? dove è straordinariamente bravo il nostro cervello nel filtrare via tutto quello che non serve che non è ritenuto molto interessante ora un altro test che avrei potuto fare con voi ma non lo faccio oggi è chiedervi che cosa c'è dietro di voi voi siete stati in questa sala chissà quante decine di volte eppure se io vi chiedessi una descrizione dettagliata di quello che sta dietro le vostre spalle sono certo che avremmo delle grosse sorprese perché? perché la vostra attenzione ogni volta che siete in questa sala e quindi ricevete tutte queste informazioni dalle immagini che arrivano non è concentrata sulla sala è concentrata solitamente su chi parla quindi su questo pezzettino dove sono io quindi voi state concentrando i pochi bit di capacità di calcolo su di me lasciando tutto il resto nell'ombra allora pensate a dove ci siamo evoluti noi uomini noi viviamo in ambienti chiusi con la luce elettrica seduti da poche generazioni diciamo che dal 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 momento in cui è stata inventata l'agricoltura che è diciamo per convenzione il luogo in cui inizia il momento in cui inizia la civiltà umana 12.000 anni fa sono passate 500 generazioni pochissime mentre prima di quel momento ne erano passate per l'uomo 20.000 in cui noi eravamo stati immersi nella foresta vivevamo in un ambiente verde eravamo dei raccoglitori cacciatori questo è il modo in cui si definisce il il modo di vita degli uomini prima dell'invenzione dell'agricoltura ora vivendo nelle foreste e quindi essendo circondati da questa immensa massa di verde era evoluzionisticamente molto più funzionale per il nostro cervello filtrare via tutto questo verde che altrimenti ci avrebbe sovraccaricato i nostri poveri 300 bit al secondo e accorgerci soltanto se c'erano degli altri animali o degli altri uomini che quelli si potevano essere davvero pericolosi per la nostra sopravvivenza mentre il verde non lo era allora era un meccanismo di protezione era un meccanismo evolutivo che ci rendeva possibile utilizzare il nostro cervello per calcolare per utilizzarlo per vedere ciò che era davvero importante per noi gli altri animali gli altri uomini oggi però e questo è uno dei tanti problemi del nostro sviluppo così veloce non è sicuramente né il più importante né l'ultimo noi abbiamo cambiato in maniera così drastica l'ambiente in cui viviamo in un tempo così ridicolmente breve che la nostra evoluzione tutta l'evoluzione del nostro corpo non ha avuto neanche lontanamente il tempo di potersi adattare a questo nuovo ambiente ma neanche neanche per una frazione quanti di voi soffrono di mal di schiena tanti tante persone hanno soffrono di mal di schiena il mal di schiena è qualche cosa che dipende proprio dall'evoluzione dei nostri costumi noi oggi passiamo molto del nostro tempo seduti cosa che non facevamo qualche generazione fa passando il tempo seduti la forma la posizione diciamo della nostra della nostra spina dorsale non sta come dovrebbe e inevitabilmente quando si raggiunge una certa età inizia il dolore di schiena che è una di quelle cose che affligge credo l'80% della popolazione umana ma questa è soltanto una delle decine direi probabilmente centinaia di patologie che sono legate al nostro non adattamento alle condizioni di un ambiente che è completamente nuovo rinnovato quindi agli inizi torniamo alle piante agli inizi della nostra evoluzione poteva essere un vantaggio non accorgerci delle piante e quindi mantenere la nostra attenzione su uomini e animali oggi all'incontrario sta diventando un enorme svantaggio evolutivo cioè noi non ci accorgiamo più delle piante non ci siamo non siamo in grado di renderci conto che dalle piante dipende la nostra sopravvivenza quello che era diventato che era un vantaggio evolutivo sta diventando un fortissimo svantaggio evolutivo come mai a parte diciamo questa questa disfunzione cognitiva ci sono anche altri motivi che ci impediscono di comprendere le piante uno di questi è la loro straordinaria diversità da noi come vi dicevo noi siamo abituati a vedere soltanto ciò che è simile a noi più una cosa è vicina a noi più noi la comprendiamo più comprendendola siamo in grado di apprezzarla di amarla più è lontana da noi meno riusciamo a comprenderla e ovviamente ad apprezzarla e prendiamo il caso della vita quindi noi stiamo ve lo ricordo parlando del noi animali che siamo ciò che noi uomini riusciamo facilmente a comprendere perché perché sono fatti come noi hanno una testa hanno degli organi anche se non hanno degli occhi tutti hanno degli organi di senso si muovono noi ci chiamiamo animali perché siamo animati ci muoviamo questo è il motivo del nostro nome animato vuol dire che si muove e che si muove è la caratteristica principale dell'animale noi risolviamo tutto attraverso il movimento noi non abbiamo neanche non riusciamo neanche a immaginare come si possa risolvere un problema senza muoversi noi abbiamo questa straordinaria risposta che utilizziamo sempre in qualunque contesto per risolvere un problema utilizziamo il movimento e quando non possiamo e diciamo anzi che abbiamo risolto un problema quando di fatto sarebbe stato molto sarebbe molto più corretto dire che noi evitiamo noi animali evitiamo i problemi noi ci spostiamo via dai problemi quanto è diversa una pianta rispetto a noi una pianta non può assolutamente muoversi dal luogo in cui è nata si muove tanto ma non si può spostare il termine l'aggettivo che la che la descrive meglio è un aggettivo un po' tecnico e un po' desueto sessile sessile vuol dire radicata vuol dire che non che è legata al luogo in cui è nata le piante quindi si muovono ma non si possono spostare questo cambia tutto realmente cambia tutto una pianta non può andarsene via quando non c'è acqua quando non c'è nutrimento quando deve riprodursi quando deve difendersi quando deve comunicare quando deve avere una vita sociale quando deve far crescere i propri figli sono tutte cose che le piante fanno come le facciamo noi ma in maniera diversa sono tutti i problemi che abbiamo in comune con loro tutti i problemi della vita sono in comune fra gli esseri viventi il modo di risolverlo è molto diverso ora come facciamo a comprendere quindi degli organismi che sono così incredibilmente diversi da noi da non usare il movimento per risolvere i propri problemi e questo cambia tutto quanto perché la forma del corpo il modo in cui questi organismi funzionano tutto dipende da questo pensate un po' per esempio alla nostra organizzazione l'organizzazione di un uomo o di un animale come siamo fatti noi guardate che questa è una cosa estremamente rilevante non soltanto in termini biologici ma in termini generali gli insegnamenti della biologia sono spesso sottovalutati nella loro capacità universale di fornire soluzioni come siamo costruiti noi abbiamo un cervello che governa degli organi è una costruzione semplice piramidale gerarchica c'è un cervello che prende e dà gli ordini e poi ci sono una serie di organi singoli o doppi che sono specializzati in particolari funzioni respiriamo con due polmoni digeriamo con uno stomaco vediamo con due occhi sentiamo con due orecchie ragioniamo pensiamo comunichiamo con un solo cervello questo è una struttura è una struttura molto classica che chiunque di voi conosce perché se voi guardate qualunque organigramma di qualunque organizzazione umana sia l'università sia il gabinetto sia un cinema sia un cinema un teatro un'azienda una compagnia palazzo strozzi qualunque organizzazione umana è costruita in questa maniera l'organigramma ha un capo non si chiama capo per caso capo testa e degli organi sotto che svolgono delle funzioni questa è noi siamo talmente legati alla nostra animalità da vedere soltanto questo tipo di organizzazione abbiamo costruito tutto secondo questa organizzazione ora c'è da chiederci questa organizzazione che noi abbiamo utilizzato per tutto è l'unica beh ovviamente la risposta l'avete compreso ma per nulla questa è un'organizzazione che è stata adottata dallo 0,3% della vita e già questo ci dovrebbe in qualche maniera porre delle domande ma come soltanto lo 0,3% della vita usa questa organizzazione come mai il restante 99,7% non la trova utile uno intanto si chiede questo e soprattutto come mai evidentemente un'organizzazione che è stata altri tipi di organizzazione hanno portato altri tipi di esseri viventi a un successo così incredibilmente superiore a quello degli animali altra domanda che bisognerebbe legittimamente chiedersi quali sono questi quali sono questi altri sistemi di organizzazione e qual è la differenza e perché noi non li conosciamo e perché non li utilizziamo e come mai utilizziamo soltanto il nostro sistema di organizzazione innanzitutto partiamo dal nostro perché gli animali sono costruiti così perché gli animali ve lo dicevo prima dovendo muoversi e quindi essendo avendo la loro il loro fuoco il loro motore fondamentale nel movimento devono essere in grado di dare delle informazioni molto velocemente delle soluzioni molto velocemente questo tipo di organizzazione costruita su un capo e degli organi specializzati in particolari funzioni è un'organizzazione che ha l'unico vantaggio nella velocità l'unico vantaggio di questa organizzazione è che è veloce è la testa a prendere la decisione e poi il corpo segue nel corpo degli animali questa organizzazione funziona almeno questo vantaggio lo dà quando noi trasliamo questa organizzazione nelle nostre organizzazioni umane quindi non nel corpo ma quando costruiamo quando facciamo un'azienda una società un'università una fondazione qualunque cosa questa organizzazione non funziona più bene perché non funziona bene perché l'unico vantaggio che aveva la velocità viene meno perché viene meno perché il passaggio di ordini dal capo al resto del corpo avviene attraverso una sequenza di intermediari che formano quella cosa che poi noi impariamo a conoscere come burocrazia e la burocrazia è di per sé un problema legato a qualunque tipo di organizzazione gerarchica è ineliminabile ora non entrerò nei problemi della burocrazia che andiamo molto fuori tema ma ciò che è fondamentale comprendere è che in ogni organizzazione gerarchica la trasmissione degli ordini porta a un rallentamento quindi porta all'eliminazione dell'unico vantaggio serio che esisteva che era quello per cui noi animali siamo costruiti in questa maniera la velocità d'altra parte il numero di svantaggi di difetti di questa organizzazione è enorme uno fra tutti la fragilità chiunque di noi lo sa basta che qualunque dei nostri organi non c'è bisogno che sia la testa il capo basta che uno qualunque dei nostri singoli o doppi organi si danneggi perché l'intera organizzazione collassi questa è una cosa che avviene nel nostro corpo avviene nel corpo degli animali così come avviene molto frequentemente nelle organizzazioni che noi creiamo anche qui gli esempi sono gli esempi sono tantissimi molte delle delle civiltà precolombiane dell'America Latina sono completamente crollate scomparse ed erano alcune di queste erano delle civiltà incredibilmente avanzate anche dal punto di vista sia tecnologico di numeri di economia e tutto quando Cortes arrivò nell'attuale città del Messico pensava di trovare un villaggio di qualche centinaia di persone trovavo una città da 60.000 persone al tempo in Europa città da 60.000 persone erano due o tre non ce n'erano non ce n'erano tante di più quindi abbiamo detto delle civiltà estremamente raffinate estremamente avanzate anche dal punto di vista tecnologico estremamente avanzate anche dal punto di vista dell'economia ma che basavano tutta la loro organizzazione sul capo sull'imperatore è una delle è una delle più eclatanti dimostrazioni della fragilità di questo tipo di organizzazioni la rimozione di Montezuma in due anni provocò la completa scomparsa di una civiltà che aveva migliaia che aveva migliaia di anni e che era diffusa su una enorme quantità di territorio molto ricca la stessa cosa accade è accaduta con altre civiltà del precolombiane come mai gli spagnoli che con una con un con qualche centinaio di soldati Cortese è arrivato in in America Latina con 500 persone ma non erano tutti soldati i soldati saranno stati 300 sono riusciti in questo sfacelo è una cosa che non riguarda la storia del portare le malattie eccetera se anche avessero portato le malattie se anche le malattie fossero state così terribili non avrebbero potuto far crollare un'intero un'intera civiltà la questione era proprio l'organizzazione e poi come mai quegli stessi spagnoli che avevano fatto crollare tutte queste civiltà in un batter d'occhio non riuscirono mai ad arrivare nell'America del Nord come mai gli spagnoli gli spagnoli non interessava la California certo che gli interessava ci provarono per secoli ad arrivare lì su perché non arrivarono perché un'insignificante civiltà ma completamente diversa come struttura rispetto a quelle dell'America Latina le civiltà gli apash quelli che noi chiamiamo come apash li bloccarono per secoli perché perché gli apash avevano una struttura distribuita era una civiltà molto ma molto molto più primitiva rispetto a quelle dell'America Latina ma che non era basata su un capo centrale era completamente distribuita per cui una volta gli spagnoli distruggevano qualche cosa un villaggio eccetera non cambiava nulla tutti gli altri continuavano a sopravvivere ora la fragilità è uno poi ce ne sono tanti altri però ancora noi non vogliamo parlare di organizzazioni vogliamo parlare di piante di terra le piante vi dicevo noi non le comprendiamo perché sono diverse da noi come hanno un'organizzazione che è completamente diversa da quella che vi ho raccontato finora noi capiamo soltanto ciò che è vicino a noi le piante sono molto lontane da noi pensate facciamo una specie di esercizio esperimento mentale come li chiamava Einstein immaginiamo che ora su questa cattedra si materializzi un essere una cosa non sappiamo se è un essere vivente proveniente di cui l'unica cosa che sappiamo con certezza è che proviene da un pianeta lontano stiamo immaginando quindi un qualche cosa di cui non siamo mai prima stati in contatto come faremmo noi a comprendere se è un essere vivente e se è un essere intelligente semplicemente per comparazione con quello che siamo noi per esempio cominceremo la prima cosa che cominceremo a vedere è se si muove questa è una cosa fondamentale cioè se non si muove già avremmo fortissimi dubbi che sia un essere vivente ma come non si muove noi ci muoviamo e lui non si muove ecco e di nuovo vedete la sfasatura se pensate che su questo pianeta gli animali sono soltanto lo 0,3% allora arriva un essere vivente un essere una cosa non si muove non è probabilmente non è viva sarà intelligente ma già il fatto che non si muove non depone a suo favore poi cominciamo a vedere se ha delle cose che sono simili a noi ha qualcosa che assomiglia a degli occhi delle antenne degli oggetti che più o meno gli permettono di percepire l'ambiente intorno al quale nel quale è immersa se non li vede se noi non vediamo niente di tutto questo ancora di più ci convinciamo che ciò che stiamo vedendo è qualcosa di molto più prossimo all'inorganico che è all'organico e via dicendo tant'è vero che noi come ce li immaginiamo gli alieni nei film che avete mai visto un vero alieno gli alieni sono o degli uomini di solito stream in city con un gran testone oppure degli insetti cattivi cioè sono sempre degli animali sono sempre degli animali cioè anche la nostra fantasia su come può rappresse come come può mostrarsi la vita è limitata a questo 0,3% di cui facciamo parte ora una pianta non ha nulla assolutamente nulla di ciò che ci contraddistingue nonostante sia un essere vivente che si è sviluppato su un pianeta con la stessa gravità e la stessa atmosfera in cui ci siamo sviluppati noi quindi nello stesso pianeta pensate quante incredibili forme potrebbe avere qualora esistesse una vita extraterrestre se una forma di vita che si è evoluta sullo stesso pianeta nostro è talmente diversa da noi che noi non riusciamo a comprenderla allora perché una pianta non avrà mai un cervello due polmoni uno stomaco due occhi due orecchie eccetera perché non è costruita come noi è una conseguenza diretta del fatto che è sessile cioè è radicata immaginatevi se una pianta avesse un cervello o due polmoni magari una sequoia di 110 metri d'altezza fuori dal terreno no? e quindi altre tanti 110 metri sotto terra che di cui noi normalmente non parliamo dobbiamo immaginare sempre che una pianta dal terreno in fuori ha la stessa massa di quanto ne ha sotto il rapporto di masse è uno a uno quindi quindi le radici sono altrettanto grandi della chioma beh immaginiamoci quindi una sequoia di 120 metri fosse costruita come noi arriva un bruco non c'è bisogno di un animale chissà grande quanto vi ricordo che una sequoia di 100 metri di 110 metri ha un tronco che è grossomodo la metà un pochettino più grande della metà di questa sala come superficie proprio come della sezione quindi è un albero la cui di fronte al quale la nostra insignificanza in termini di massa risalta in maniera molto forte quindi immaginatevi questo enorme albero fosse costruito come noi arriva un bruco fa un buco nel cervello fa un buco nel polmone fa un buco nel cuore fa un buco dove gli pare e l'intero albero collasse e muore questo è il motivo per cui le piante sono costruite in una maniera diversa perché le piante si sono evolute per essere predate ora di nuovo come possiamo pensare di immaginare una forma di vita talmente diversa dalla nostra che si è evoluta sapendo che sarebbe stata mangiata per noi essere mangiati è il più antico e il più terribile degli incubi l'incubo primordiale essere mangiati per una pianta non c'è niente del genere una pianta è talmente pronta ad essere predata che pensate che non attiva neanche le difese quando ci sono degli insetti o degli animali che iniziano a mangiarla fino a quando il danno non è molto oltre una certa soglia cioè fino a quando un insetto o un animale mangia il 10% il 20% del corpo di una pianta la pianta è talmente è talmente disinteressata ecco a questo a questo a questo fenomeno che non attiva neanche le difese perché non perché non possa farlo le piante hanno tutta una batteria di difese che mettono in funzione ma le mettono in funzione quando il danno comincia a passare una certa soglia fino al 10-20% per una pianta è molto meglio sopportare la rimozione del corpo piuttosto che spendere energia per attivare le difese è più conveniente ora capite che stiamo parlando di organismi che sono incredibilmente diversi da noi incredibilmente diversi la loro organizzazione ad esempio come mai è così robusta in modo talmente robusta da permettere la rimozione del 60-70% del corpo in alcuni casi anche dell'80% del corpo senza che l'intera organizzazione collassi o ne risenta perché le piante hanno fatto una cosa che è straordinaria rispetto a noi hanno diffuso sull'intero corpo tutte le funzioni che noi abbiamo concentrato negli organi cioè è una rivoluzione biologica rispetto al nostro modo alla nostra organizzazione una pianta se volessimo esemplificare respira con tutto il corpo non respira con due polmoni vede con tutto il corpo non vede con due occhi digerisce con tutto il corpo ragiona ragiona comunica con tutto il corpo è un'organizzazione diffusa e decentralizzata un'organizzazione diffusa e decentralizzata è molto più moderna rispetto a un'organizzazione gerarchica e centralizzata lo dimostra anche la tecnologia lo dimostra tutto ciò che noi stiamo costruendo noi uomini tutto quello che va sotto l'egida della modernità è decentralizzato è distribuito internet è costruito esattamente come una pianta è per questo che non è arrestabile non lo si può fermare non lo si può controllare perché non c'è un centro di comando internet nasce proprio per rispondere a questo problema nasce per come per iniziativa del governo degli Stati Uniti il governo degli Stati Uniti aveva una struttura di difesa come tutte le altre strutture di difesa gerarchiche quindi c'era un centro di comando poi c'erano tutte le varie basi e i vari luoghi della difesa che dipendevano da questo centro di comando a un certo punto qualcuno furbo si chiese ma se i russi ci spagano una bomba atomica per primi sul centro di comando noi che cosa facciamo questa era una buona domanda e in effetti dopo di allora si dotarono di una rete non centralizzata ma distribuita che mantenesse funzionanti e in vita tutte le restanti basi anche qualora ci fosse stato un attacco sul centro di comando da questa rete iniziale nasce poi col contributo delle università quello che poi diventerà internet quindi avete questa rete è una rete diffusa è una rete identica all'organizzazione vegetale tant'è vero che se guardate una rete topografica delle connessioni di internet e la paragonate a una rete radicale vi accorgerete che sono essenzialmente la stessa cosa bene quindi un'organizzazione completamente diversa un'attenzione un'attenzione al modo alla vita che è completamente diversa dalla nostra noi siamo predatori 500 milioni di anni fino a 500 milioni di anni fa breve diciamo parentesi sull'evoluzione della vita la vita su questo pianeta appare oltre 4 miliardi di anni fa da 4 miliardi e mezzo più o meno di anni fa a 500 milioni di anni fa la vita è rimasta nell'acqua e noi eravamo tutti quanti noi intendiamo i nostri antenati erano tutti insieme nell'acqua quindi per 4 miliardi di anni siamo stati nell'acqua a sguazzare 500 milioni di anni fa la vita arriva sulla terra ed è allora che avviene la la separazione fra il diciamo il mondo vegetale e il mondo animale questa separazione su che cosa si basa qual era la decisione evoluzionistica che indirizza queste due linee beh è molto semplice le piante decidono di rimanere sessili quindi di rimanere ferme di assorbire la luce del sole attraverso un processo che ha ancora oggi del miracoloso che è quello fotosintetico che trasforma l'energia del sole in energia chimica e guardate che l'unica fonte energetica di questo pianeta a parte diciamo quello dell'interno radioattivo che però facciamo conto che non esista perché ai nostri fini è completamente ininfluente è il sole quindi tutta l'energia che noi usiamo su questo pianeta in qualunque forma noi la utilizziamo viene dal sole le piante secondo la definizione di un grande botanico russo degli inizi del secolo scorso timiziaref sono il legame fra il sole e la terra cioè questa grande decisione evoluzionistica che le che le piante prendono è tale per cui abbiamo degli organismi che riescono a fissare la luce del sole a trasformare questa energia luminosa in energia chimica l'energia chimica sono gli zuccheri una volta che hai gli zuccheri tu puoi fare andare puoi far camminare le macchine e dall'altra parte invece gli animali che prendono una decisione evoluzionistica diversa opposta che è quella di andarsene in giro a predare gli organismi che avevano fissato invece dell'energia chimica quindi vedete che c'è una differenza sostanziale fin dall'inizio una differenza fra predatori e predati fra coloro che fissano l'energia e coloro che la consumano e questa differenza diciamo si ripercuote ancora oggi nei nostri comportamenti noi siamo continuiamo ad essere animali animali vuol dire predatori noi dobbiamo consumare per vivere guardate la differenza di questa decisione iniziale sta nei numeri da una parte l'85% dall'altra parte lo 0,3 non c'è alcun dubbio su quale fosse anche in termini di efficienza la decisione giusta il problema reale è che noi uomini siamo la quintessenza dell'animalità siamo dei super predatori consumiamo una tale enorme quantità di risorse che questo pianeta non è in grado più di provvedere questo è il fatto fondamentale cioè l'antropocene il fatto che l'uomo sia diventato una forza tellurica fra l'altro questa scopera questa idea non è un'idea recente di un premio Nobel per la chimica americana ma è un'idea di un geologo italiano un gesuita che si chiamava Stoppiani il quale alla fine dell'ottocento disse testualmente scrisse un libro in cui diceva l'uomo è diventato una forza tellurica cosa vuol dire una forza tellurica una forza in grado di modificare il pianeta come lo modifica il pianeta in peggio ovviamente proprio perché siamo dei super predatori lo stiamo consumando lo stiamo consumando a una tale velocità che sono molto poche le persone che riescono a intendere a quale velocità questo fenomeno stia andando avanti e sto parlando delle risorse non sto parlando del riscaldamento globale o di altri corollari della nostra aggressione all'ambiente le risorse tutte le risorse che noi utilizziamo sono a termine a termine nei prossimi cento anni non di più cioè intendo dire tutte quelle risorse da cui dipende la nostra civiltà a parte le fonti energetiche fossili ma anche delle cose semplicissime che sono il cobalto il cadmio altri altri metalli metalli più o meno rari tutte cose che sono fondamentali per mandare avanti la nostra il fosforo il fosforo il fosfato è una delle è una delle il fosforo è una delle delle molecole fondamentali per far crescere le nostre coltivazioni noi concimiamo le piante con il fosfati i fosfati sono a termine una volta che saranno terminati per andare a riprendere i fosfati dovremo andarli a prendere in fondo all'oceano nel fondo dell'oceano cosa molto molto complessa d'altronde non c'è bisogno anche senza entrare nei dettagli come si può immaginare che un pianeta che ha risorse finite perché ritorniamo a quell'immagine con quale ho iniziato la mia chiacchierata questo pianeta che naviga da solo nel nero dell'universo e quindi è un'isola come si può immaginare che un'isola finita circoscritta abbia risorse infinite non è possibile è fisicamente impossibile nessuna persona che abbia un grano di logica potrebbe pensare che una cosa che ha risorse finite come un pianeta può sopportare una crescita infinita noi la produzione la produzione di 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 anidride carbonica di origine antropica ha modificato talmente e sta modificando in maniera talmente forte il clima da far sì che nei prossimi nei prossimi 50 anni diciamo i cambiamenti climatici saranno talmente forti da rendere impossibile la vita per gran parte della popolazione di questo pianeta stiamo parlando di 50 anni non stiamo parlando di mille anni o di 10.000 o di un milione cosa di cui dovremmo invece parlare ora terminerò su questo ma stiamo parlando di 50 anni le previsioni su il clima di Firenze nel 2070 fra 50 anni secondo il modello più ottimistico se non faremo nulla ripeto di nuovo il modello più ottimistico sono che la media delle temperature massime estive di Firenze sarà 5 gradi più alta di oggi la media delle temperature massime invernale sarà 4 gradi più alta di oggi la quantità di pioggia durante il periodo primaverile estivo diminuirà fra il 30 e il 40% ora quando io dico la media delle temperature massime estive vi ricordo che oggi la media delle temperature massime estive è intorno ai 29 gradi la media delle massime quando parliamo di 5 gradi in più vuol dire che diventerà fra 50 anni di 34 e quando avete una media di 34 delle temperature massime vuol dire che avete settimane a oltre i 40 il clima che vi sto descrivendo è un clima che oggi non ha neanche Marrakesh soltanto che Firenze non è costruita per stare in Marocco e questo accade in tutte le città per tutte le città del mondo e soprattutto se Firenze avrà il clima di Marrakesh nel 2070 Catania che clima avrà? ve lo dico io avrà il clima di una città del Sub-Sahel è una città del Sub-Sahel Marrakesh che clima avrà nel 2070 sarà prossima all'inabilità alla inabitabilità oggi la quantità di terra del pianeta che non è abitabile per limiti termici perché fa troppo caldo è lo 0,8% delle terre emerse nel 2070 sarà il 19% e vi ripeto questo stiamo parlando di modelli ottimistici il 19% vuol dire che 2 miliardi di persone non potranno vivere dove oggi vivono ma non non vorranno o riterranno che al di fuori della propria terra potranno avere delle condizioni economiche di vita più favorevoli non potranno fisicamente vivere perché il clima dei loro paesi non è adatto non è compatibile con la vita umana allora questo è il problema del riscaldamento globale non stiamo parlando di estati più calde e primavere più più miti e inverni più tiepidi non stiamo parlando neanche di fenomeni atmosferici violenti più acqua piove tanta acqua in poco tempo tutte queste cose potrebbero essere tollerate ma non è tollerabile che il 19% del pianeta diventi inabitabile questa è una cosa che avrà conseguenze catastrofiche questi 2 miliardi di persone dove andranno se immaginate il cassino che abbiamo fatto per qualche decina di migliaia di persone che accadrà quando 2 miliardi di persone si muoveranno 50 anni sono veramente una quantità di tempo infima minuscola allora questo è quello che sta facendo l'uomo e quindi ritornerei e per concludere anche all'idea iniziale perché siamo convinti noi di essere il meglio che esiste su questo pianeta da dove ci viene questa convinzione perché il fatto che abbiamo un cervello che ci permette di fare delle cose che gli altri esseri viventi non sono in grado di fare ci rende ci fa nascere l'idea che siamo migliori degli altri esseri viventi da dove parte questa idea guardate che questa idea non ha alcun fondamento biologico il fatto il cervello noi abbiamo un cervello che sicuramente ci permette di fare delle cose che gli altri esseri viventi non sono in grado di fare noi abbiamo scritto la divina commedia e abbiamo dipinto la cappella Sistina i fratelli Karamazov la teoria della relatività stiamo qui a discutere di questi problemi gli altri esseri viventi non fanno cose del genere e allora e allora questo perché dovrebbe essere un vantaggio rispetto agli altri esseri viventi che cosa vuol dire migliore migliore vuol dire che c'è un obiettivo e che si può misurare l'efficienza col quale si raggiunge questo obiettivo di nuovo vedete una formazione scientifica è importante per inquadrare alcuni problemi corriamo sui 100 metri obiettivo correre i 100 metri nel minor tempo possibile è chiaro se qualcuno corre in 10 secondi e un altro corre in 15 secondi quello che corre in 10 secondi è migliore non c'è alcun dubbio chi corre in 10 secondi possiamo quindi possiamo firmare sottoscrivere questa affermazione chi corre in 10 secondi è migliore di chi corre in 15 secondi sui 100 metri non c'è alcun dubbio ci iscriviamo a una gara di salto in alto se io salto un metro e un alto salta un metro e mezzo quello che salta un metro e mezzo è migliore di me nel salto in alto ora l'idea di migliore è un'idea estremamente pericolosa l'idea che noi abbiamo di essere migliori perché nel momento in cui pensi di essere migliore di qualcun altro sia questo una persona della tua specie o un essere vivente di altre specie diventa immediatamente non più un tuo pari ma qualcuno che tu utilizzi ai tuoi fini perché tu sai meglio come deve essere utilizzato ora io non voglio entrare nella questione etica di tutto ciò a me non interessa a me interessa mi interessa ma non è questo ora il quello di cui voglio su cui voglio approfondire il discorso quanto è vero o no che siamo meglio almeno iniziamo da questo perché è semplice dire noi siamo meglio vabbè d'accordo discutiamone perché come mai siamo meglio siamo meglio in termini di numeri no abbiamo visto termini di numero siamo assolutamente irrilevanti noi uomini rappresentiamo una quantità prossima allo zero della della materia vivente allora che cos'è siamo non è diciamo non funziona l'approccio numerico funzionerà che ne sono un approccio aristocratico siamo i migliori perché riusciamo a fare delle cose bene che cosa qual è l'obiettivo della vita qual è l'obiettivo primario della vita tutti gli altri obiettivi qualunque obiettivo uno possa avere è un corollario di questo primo obiettivo che non ha nulla di trascendente e che è la propagazione della specie ed è di una tale evidenza questo che appare a chiunque di noi se noi scomparissimo domani a chi mai potrebbe fregare nell'universo che noi abbiamo scritto la Divina Commedia o abbiamo dipinto la Cappella Sistina a chi mai quindi è ovvio che la propagazione della specie è il primo fondamentale obiettivo di qualunque specie vivente come dire è la gara sulla quale noi competiamo come prima parlavamo di competere per la corso il salto questa è la gara sulla quale dobbiamo dire siamo o meno i migliori allora come siamo messi su questa gara quanto quanto saltano gli altri esseri viventi a questa gara quanto vanno avanti beh ve lo dico la vita media di una specie su questo pianeta è 5 milioni di anni la vita media quindi li prendiamo tutti gli esseri viventi una specie da quando appare a quando scompare vive 5 milioni di anni in questo io ho messo piante e animali per fare un piacere agli animali perché se ci mantenessimo soltanto sulle piante la loro vita media di specie sarebbe di decine di milioni di anni ma facciamo una cosa una statistica unica 5 milioni di anni ora chiediamoci noi uomini da quanto siamo qui guardate attenzione non fate confusione quando si sente parlare di uomini di di due milioni di anni fa l'australopiteco a farensis non ha niente a che fare con noi niente noi siamo homo sapiens ci siamo chiamati in questa maniera diciamo a dimostrazione della nostra caratteristica principale che è la presunzione non la saggezza ci siamo chiamati homo sapiens e siamo qui da 300.000 anni da niente da 300.000 allora questo in altri termini vuol dire che se noi fossimo nella media se noi ci mantenessimo nella media degli altri esseri viventi dovremmo vivere altri 4.700.000 anni vi torno ora quanti in quanti pensano sinceramente che noi saremo qui fra 4.700.000 anni quando lo ricordo tutto quello che abbiamo combinato nel bene e nel male a questo pianeta lo abbiamo fatto negli ultimi 12.000 anni quindi in 12.000 anni un battito di ciglia noi siamo riusciti diciamo in un in una in una in un risultato che è straordinario in termini di impatto sul pianeta talmente straordinario appunto che oggi noi viviamo in un'epoca che è chiamata antropocene in cui l'uomo è talmente ha talmente diciamo scombinato le caratteristiche del pianeta da renderlo irriconoscibile e lo abbiamo fatto in 12.000 anni ora qui la questione sta se saremo ancora qui fra mille fra 10.000 anni ma anche 100.000 anni se anche fossimo riuscissimo a sopravvivere altri 100.000 anni sarebbero 400.000 in totale se riuscissimo a sopravvivere un altro milione di anni sarebbero 1.300.000 ma quanti pensano una cosa del genere e perché non lo pensiamo soprattutto perché per quale motivo c'è impossibile pensare che noi potremmo sopravvivere così a lungo come ci toccherebbe invece vivere la media è la media è come se una persona quant'è la vita media oggi in Italia mi sembra 84 85 anni pensasse 85 anni gli altri io morirò a tre neanche a un anno perché nessuno penserebbe una cosa del genere eppure noi sì noi abbiamo questa idea abbiamo questa idea che noi non è possibile che riusciamo a sopravvivere altri 100.000 anni questa è la misura vera del fatto che noi siamo inappropriati al momento alla vita cioè è la questione molto diversa ogni tanto penso mi metto nei panni di un mio di un mio collega di un altro pianeta che diciamo non essendo offuscato dal fatto di essere uomo studia la vita di questo pianeta quindi è uno di Alfa Centauri un collega di Alfa Centauri se ne arriva in orbite intorno alla terra e la studia e vede a un certo punto apparire nella storia della vita di questo pianeta una specie buffa che fa in tempo ad apparire a chiamarsi sapiens sapiens due volte e a scomparire e io mi immagino le risate che si farebbe di fronte a questa specie così presuntuosa che è durata un secondo un lampo ed è riuscita diciamo soltanto a definirsi sapiens sapiens allora da un punto di vista evolutivo il nostro cervello se è un vantaggio o uno svantaggio noi al momento non lo possiamo sapere questo è il vero punto lo stiamo tutti tutti diciamo i sintomi indicano che sia uno svantaggio evolutivo però potrebbe anche essere uno strumento e questo è quello che mi auguro e che io anzi di cui sono convinto e che il nostro cervello sia uno strumento talmente potente che ci è stato messo in mano e che noi ancora non sappiamo utilizzare è la stessa cosa di quando metti in mano un martello a un bambino proprio perché noi siamo una specie così giovane tu prendi un martello lo metti in mano a un bambino e il bambino sfascia la casa con quel martello se fai in tempo a diventare grande maturo capisce che con quel martello ne può costruire altre di casa allora la mia ottimistica convinzione e anche speranza è che questo sia effettivamente uno strumento straordinario che è in grado di avvantaggiare di avvantaggiarci in termini evolutivi ma che noi proprio essendo una specie ancora così giovane non siamo in grado di maneggiare l'unica incertezza che ho è se saremo abbastanza veloci dal diventare adulti prima che questo strumento ci danneggi completamente grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti